In 15 secondi. Le scimmie da cui proveniamo direttamente compiono un coito in 15 secondi. Anche per gli altri animali i tempi del coito sono molto brevi. Perché? Commento perché gli animali compiono il coito quasi senza coscienza. Molti uomini invece che essendo uomini vivono pienamente di autocoscienza continuano a lungo i tempi del coito perché attendono che anche la donna raggiunga l'orgasmo.